buongiorno amici oggi vi porto a vedere la diga foranea di portocorsini che come vedete si tratta di un molo molto molto lungo circa tre chilometri e mezzo che si proietta nel cuore dell'adriatico e alla funzione di protezione di tutta l'area portuale retrostante se volete fare una bella camminata se volete fare una bella corsetta anche se a dire il vero in questo periodo è piuttosto caldo ve lo consiglio caldamente questa è una giro che ho fatto ieri esattamente il 19 e ve lo propongo così vi fate un'idea ciao iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale 3 chilometri e mezzo in mezzo al mare no 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 no